dei servizi comuni. È stato fatto solo che alla fine bisognava creare un altro EF, strutturato come un altro comune, in un momento in cui non potevi assumere, non potevi fare niente, non c'era disponibilità, ci doveva essere un distacco di personale dai vari comuni per creare un altro EF e diventava un problema. Allora è stato detto cerchiamo di lavorare sui servizi e con Portoguaro abbiamo la convenzione per i vigili, abbiamo la convenzione sull'asino nido e stiamo anche facendo una serie, siamo all'interno delle conferenze dei sindaci, la nostra conferenza dei sindaci è stata la prima, perché adesso c'è quella del Brent, ma quella del Portoguarelle che poi si è estesa anche a San Montese, è stata la prima, è operatamente, tutte le settimane c'è una riunione dei sindaci che si coordinano e fanno progetti insieme, quindi c'è un coordinamento tra i sindaci, molto più di una volta, adesso è molto sentito questa termina. Però ripeto, purtroppo quando si parla di fusioni, quando si parla di creazione di nuovi enti diventa problematico, oltretutto l'esperienza di unione dei comuni fatta su alcuni servizi, non sto parlando di Pellio, forse altro, non è che sia andata a buon fine, sto parlando di esperienze del territorio, c'è un'opinione dei comuni che condivideranno dei servizi. Quindi, sì, sono il primo che dice che è necessario che noi ci parliamo e che alcuni servizi siano condivisi. E' inutile avere due comandanti origini su un ambito che territorialmente è occupato, nel senso che Portoguare concordi a se tu, come un quartiere di mestra, voglio dire, tutto insieme, quindi alcune cose devono essere gestite in questa maniera. Ma io sono convinto tanto che quando Portoguare, quando abbiamo iniziato parlare del nido, Portoguare ha sempre detto che noi vogliamo continuare a mantenere l'apporto concordia rispetto al nido, poi adesso non so se qua cambia tutto. No, no, ma c'è spazio per tutti. No, c'è spazio per tutti. In questi 140...